Sono morte sul colpo due turiste belghe di 24 e 26 anni appena arrivate a Roma, travolte da un'auto pirata sulla A24 originari di Mennen, erano impiegate nel settore della ristorazione. Entrambe erano arrivate a Roma per trascorrere una vacanza, una tragedia come detto avvenuta sull'A24 in direzione Roma all'altezza di Tor Cervara. Le due, secondo una prima ricostruzione, erano scese dall'auto noleggiata con conducente per soccorrere alcune persone che avevano avuto un incidente. In qualche istante sono state entrambe travolte e uccise sul colpo. L'auto non si è fermata e secondo quanto si apprende dalle ultime notizie nella serata di ieri un sospettato è stato individuato e condotto in ufficio per accertamenti. Grazie a tutti.